buongiorno si sono in bagno vabbè non c'è un altro punto con luce perché sono le sette meno un quarto più o meno di mattina e buissimo fuori e mi sono preparata per andare al mercatino di strambino oggi è domenica 25 settembre 2016 e niente adesso ci incamminiamo là abbiamo finito mio marito ha finito di preparare i miei panini abbiamo già tutto pronto e andiamo un po' a vedere appunto come sarà la giornata e vediamo come si evolverà ore 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 manchetta è pronta un po' buio come è scritta sono fermata un attimo perché sono riuscita a beccare una del comune per avere quel benedetto foglio per l'autorizzazione a vendere che è una cagata lo sapete tutti però vabbè ormai io qua l'avevo pagato sembra una pazza tanto non c'è nessuno faccio un giro veloce dunque qui è la piazza vedete che c'è un po' di tutto prima volta che faccio un giro perché soltanto non ci giro mai in realtà farò il giro solo della piazza perché non sono anch'io bene dove andare cosa farvi vedere tanto sì c'è gente ma bigiotteria come me caloso che cazzo allora c'è giriamo la piazza di lì si va ancora su ma vediamo dopo qui cibo giriamo giriamo strade chiuse il bar dove vado a farla pipì ora che lo sapete dormite meglio ah sole cibo 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 io sono là dietro non mi si vede siamo in controluce non so se si vede ma c'è cibo ah no vabbè andiamo ancora fino al lava questo non so cos'è credo esposizione di quadri che non so se si vede si vede non si vede non so piante esposizione altra micro esposizione di quadri e si arriva il mio banchettino croce rosso qui dietro non so cosa c'è ma magari dopo ci vado e si arriva il mio banchetto voilà ora dovrei fare un altro giro per far vedere anche il resto siamo ripartiti andiamo in questa stradina andiamo a vedere cosa c'è tatatatata dunque non lo so sancarello beh ma finisce presto qui è piccolo è il canile di caloso qui c'è questo qui non si sa allora arriviamo qui ed è finito ed è finito e quindi si torna indietro torniamo indietro adesso facciamo un giro esterno così fa freddo giro esterno andiamo esposizione vendita non lo so tatatatatatam comunque ci sono io antiquariato credo poi andiamo a vedere cosa c'è su di là che io non lo so cosa c'è su di là allora oh le caprette non le avevo viste prima ci sono le caprette ma sono piene di caprette andiamo avanti poi di qua dunque penso sia artigianato questo sicuramente la signora è in mezzo c'è un cagnolino in braccio andiamo allora qui cosa c'è figo bella questa bancarella andiamo avanti pa pa ci se non sbaglio questa è la strada che va al comune è il mio amico comune andiamo a vedere cosa c'è su di là qua che bello qua esposizione di quadri figo poi magari anche no negozi aperti cosa c'è qua su non ci sono mai venuta di solito sto giù nella mia piazzetta cimbo 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 allora di qua è finito andiamo a vedere cosa c'è là facciamo non so se c'è un passaggio comunque qua c'è altro cibo frutta verdura fiori andiamo a vedere qui sta ricando questo domani qui Era meglio noto fin qua su io E' tutto nuovo Cioè viaggia a mangiare tutto qui? C'è anche di qua Comunque si siamo nella piazza del comune Non ero mai venuta fin qua su Fidissimo Qua faccio un giro un po' largo Perché se no non finisco più Lì sono mele La signora col cane di prima Ah qua c'è la parte con i fiori Qua è tutto scultura Ma mi si sente? Non si sente Bello Questa fa mia testa in mezzo Vedi anche qua lavorano Wow Figo Fighissimo E ora si ritorna giù al mercatino Non si vedeva prima quello che entra i gesti Me ne ero perso Bravo Grazie signorina Guardi che se vuole proprio Io le posso metterle qua Le insegno e le fanno la foto Mentre io la sento Perché ce ne sono tante Caprette E ora Ritorniamo Siamo di nuovo nella piazza Come vedete E ritorniamo al mio posticino Che intanto è la Mi pare che sia ancora Mi stavo perdendo dove dovevo andare Ok E riandiamo in piazza Contro solo ovviamente Voila E qui c'è la piazza E adesso raggiungo il mio posto Ah tu hai il telo viola Già mi piaci Solo perché hai il telo viola Eccoci Cioè Eccoci Il mio cazzebo verde Il mio cazzebo bianchi Mi si riconosce Mi ha detto qualcosa? Ok Boom E ora aspettiamo Vediamo come va la giornata Tant'è appena iniziata Allora A parte che Abbiamo la giornata Lietata dalla Pisa romanica Finissimo E Volevo aggiornare Sono le Che ore saranno? Mezzogiorno No Mezzogiorno 10 e 35 10 e mezza Stanno andando bene Allora Ho già fatto due vendite A due famiglie Con delle bimbe dolcissime La prima è stato un papà Che ha portato la bimba Vicino al banchetto E la bambina mi ha comprato Una collana in resina E poi adesso Una mamma Penso sì Penso che c'è la mamma Sì Con due bimbe piccole E mi hanno comprato Due braccialetti Quindi Sono già A meno male rientrata Dei 16 euro Della marca da bollo Anche se sto ancora Aspettando il foglio Comunque E Aspetta che guardo di qua Ok Ma la cosa più bella È che A parte loro Sono arrivate altre due persone Che comunque Hanno guardato bene Il suo banchetto Mi hanno fatto tanti complimenti L'ho già detto Che a me non importa Che Non importa vendere L'importante è avere Diciamo Il rispetto delle persone E quindi Sentirmi fare anche Tanti complimenti Per me è una cosa È una cosa che mi gratifica tanto Sono ben felice Anche se poi Non comprano E quindi Devo dire che la giornata Comunque è partita Molto bene E Qui c'è Il banchetto dietro Non so se si vede Boh Si sarà visto Non si sarà visto Non lo so Sono buio Un pochino Fa niente Ciao bronzata Sì sono anche Mezza sole E E quindi Niente A prescindere Sono contenta E Vedi Sì Mio marito mi fa notare Che abbiamo Il cibo alle nostre spalle Intorno Dappertutto E Fatti C'è un profumino Che Ma avendo fatto colazione Mi era una fame Pazzesca E Niente Vediamo come prosegue Ma ripeto Sono già Sono felice L'importante L'importante è quello E ci vediamo Poi dal video Ecco in arrivo Mio marito col cibo Cibo Ma che Che è questa La versione mia Scusami Volenta più spezzativa E perché loro avevano Il piatto gigante Io c'ho sta roba Ma che Ma che Che c'è Vabbè Ok ora Ora si ragiona Già di più Nel senso è pieno Però Sarà buono Speriamo Buon abbonino Prima mancava Ma adesso C'è Ma che carino E tanto qua Prosegue bene Niente di particolare Niente vendite Chissà che cosa Però E Puzzo uguale Grazie Grazie Pancino pieno Suotato anche Fortunatamente E Vabbè Sono ancora positiva Ripeto La gente è molto carina E gentile Quindi Del foglio Per l'autorizzazione Non ci traccia Nel senso Non esiste Però Tutta la mia lotta Contro Questa cosa qua Caramelle Contro questa cosa qua Ha funzionato Forse Speriamo poi In un futuro Di non dover pagare più nulla Comunque Niente Qua Che ore sono Vediamo che ore sono 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 luna E luna Sono luna E E niente Ne abbiamo ancora Per un pochino Andiamo avanti E tu È già partito No No Che a me piace Incontrare la gente Che è già venuta L'anno scorso Che avevo fatto vedere Il video Quando ho Stavolta Non lo sparchetto qua Perché sembra Divento un video lungo 20 ore Però poi A casa Lo faccio L'altro E farò un video Di fatto Quello che lo carico Tra due settimane Che mi sto programmando Tutti i video Da fare La gente Mi prende per pazza Quando lo parlo Da sola Sicura che non vuoi apparire Ogni due secondi La mamma Giustamente Tutti insieme Appassionatamente Dai Due secondi Vabbè Non c'è Tanto questo Non fai vedere il regalo Scusa Facciamo la fine Vabbè A meno facciamo la Deve Ce la diciamo Ci sarà solo il sacchetto Ma è il regalo Ci sarà il sacchetto Ma che poi Quando farò il video Pari la cosa Solita cosa Che appare Non scherzo Anche qua abbiamo la music Ci schifano un po' Di nuovo Però Però ci sono Cosa stai facendo? Sto rifinendo Le creazioni Il resino Che non l'avevo ancora fatto Questo C'è mio un castorino Questa è quella Dello scopriamo Insieme Le creazioni Resinate Ma Anche questo Appare Ovviamente Qua sopra Ha indicato Il signore Che camminava Dietro Beh Gli appariranno Scritti Il testo Ecco Dove ero arrivato Sembra E' quella copertina Che va fetta Ho incontrato Che ho parasole Neopardesco Quattro e mezza Quattro e mezza Cinque Quindi abbiamo ancora Un'ora e un quarto Un'ora e un quarto Un'ora e un quarto La matematica Non è il tuo forte Eppure mi piaceva Non si direbbe Se volete assaggiare Ragazzi Non è un castaggio Un'ora e un quarto 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 allora stiamo tornando a casa sembro smorta a vedere ci avrò un colorito in sto video attenzione signora anche lei se entra nella rotonda con più tranquillità magari comunque allora mercatino finito tiro un po' giù la finestra perché se no muoio di caldo il finestrino mercatino finito sono le 7 e un quarto dobbiamo finire alle 6 è andata bene non ho fatto chissà chissà che vendite più di ore ovviamente però come ho detto già durante il vlog ho ricevuto veramente un sacco di complimenti e quindi per me per me è una cosa bellissima e anche se non ho fatto chissà che vendite a me sembra di averne fatte tantissime è stato bellissimo anche vedere ragazzi e bambini maschi che si sono fermati a guardare le mie cose chi mi ha detto ma no le hai fatte tu ma sembravano di plastica penso fosse l'ho preso come un complimento io e molte bimbe che si sono interessate che dicono ma come le hai fatte ma veramente le hai fatte a mano ma che materiale sono ma che belli e in fondo è questo che a me piace veramente dei mercatini e che mi fa continuare ad avere voglia di farli ero molto titubante dopo come era andata a finire a D'Orio e invece è andata benissimo sono molto soddisfatta non sono neanche così stanca come mi capita di solito di essere molto stanca al rientro dei mercatini poi magari sento una stanchezza appena arrivo a casa non lo so niente sono felice credo che a differenza dell'altro vlog si veda anche se si vede che sono stanca e quindi il tempo era bellissimo la temperatura pure a parte la mattina faceva un po' fresco però poi adesso stavamo molto bene e niente mercatino super positivo e quindi se l'anno prossimo si rifà ovviamente ci sarò di nuovo nella speranza però di far valere questa cosa di non dover pagare il bollo anche perché appunto il foglio poi con l'autorizzazione non si è mica visto quindi che cavolo me l'hanno fatto pagare a fare e che poi mi ha costretto quella dei tributi del comune di Strambino non la signora con cui avevo parlato e che ha organizzato tutto quanto quindi vabbè ormai è andata così prima di sembrare troppo un fantasma in questo video che vedo che sono pallidissima anche perché non c'è più sole io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo poi al prossimo video ciao